Sabato 14 settembre, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione da TRG per questo ultimo appuntamento con la nostra rassegna stampa in questa settimana. Ancora la politica domina la scena perché continuano le evoluzioni in queste giornate davvero febbridi alla luce della lunga rincorsa verso le elezioni del 27 di ottobre. Non c'è solo questo sui quotidiani di oggi, ovviamente grande spazio poi anche allo sport con un fine settimana di gare che si apre quest'oggi con il calcio, la Serie B nel pomeriggio, nella serata, l'anticipo di Serie C tra Gubbio e Fano. Sentiremo, risentiremo le parole del tecnico Guidi più tardi dalla conferenza stampa di ieri ma vedremo soprattutto un quadro politico che vede l'Umbria come il grande ombelico del mondo politico italiano dopo il cambio del governo, l'ingresso del governo giallorosso si guarda a questo primo step elettorale e ci saranno da qui in poi i big nazionali in tour nell'Umbria. Matteo Salvini c'è già stato e ha già annunciato che tornerà fin dalla prossima settimana a Gubbio e Gualdo. Ma proprio su Salvini e sull'incontro con Berlusconi aprono i quotidiani. Intanto vi segnaliamo il messaggero nazionale che oltre ad aprire sulla flessibilità, primo passo dell'Unione Europea, speriamo davvero sia un cambio di marcia anche da questo punto di vista, dopo l'austerity che tante ferite ha prodotto nell'economia di molti paesi, primo fra tutti l'Italia, Bruxelles apre sugli investimenti in deficit per la ripresa, attacco tedesco però alle misure di Draghi e questo anche per smentire un po' chi dice che esista un filo diretto tra Berlino, Parigi e il Presidente italiano della BC e Altola dell'Europa, Berlino deve spendere di più. Ma Salvini e Berlusconi pranzo e accordo per le liste regionali è la notizia che poi ritroveremo più ampiamente dettagliata nei quotidiani Umbri, mentre ieri è stata anche la giornata della nomina dei vice ministri e dei sottosegretari, la carica dei 42, i Renziani, i Toscani fuori una vendetta. Tra i Renziani è stata invece nominata una Umbra, Anna Scani che è vice ministro all'istruzione, con lei Marina Sereni, vice ministro agli esteri, entrambe del PD e per il Movimento 5 Stelle Laura Agea che invece è sottosegretario agli affari europei. Questo per la prima del messaggero, mentre sulla prima della nazione stipendi più pesanti per le donne, l'apertura del quotidiano fiorentino, ecco il piano della maggioranza tra incentivi e multe alle aziende e poi sottosegretari, nessun toscano, il PD si spacca, ovviamente la nazione da Firenze mette in evidenza tutto questo. E anche Bruno Vespa parla dello snodo regionali, di quanto questa partita che si gioca in due tempi, a ottobre in Umbria e a novembre in Emilia-Romagna possa pesare subito sul nuovo governo giallorosso e sulla sua possibilità di tenere alla distanza. Il richiamo dall'Umbria dalla nazione invece di cronaca, pugno killer all'amico, condannato a cinque anni, Norcia un gioco tragico, perse la vita Emanuele Tiberi, lo ricorderete, è arrivata la sentenza. Il Corriere dell'Umbria, veniamo ai titoli dei quotidiani Umbri, la prima pagina, l'Umbria riunisce Silvio e Matteo, eccoli qua, Berlusconi e Salvini, raggiunto l'accordo mentre il centrosinistra è sempre più spaccato, Bracco che dice errori sulla scelta di Fora, Corriere dell'Umbria che non è tenero nei confronti del ex presidente di Conf Cooperativa ormai da qualche giorno. D'accordo Berlusconi e Salvini sul nome di Donatella Tesei, resta solo il nodo dei transfughi di Cambiamo, che non sono ben digeriti ovviamente da Forza Italia, sono tutti ex Forza Italia, ma in Umbria guidati da Tracchegiani e Lafranco vogliono dire la loro e vogliono sostenere la Tesei. Questo per quanto riguarda il centrodestra, nel centrosinistro un passo indietro per ritrovare l'unità della coalizione, il problema c'è, per primi se lo devono porre il PD e il candidato Fora, lo dice Fabrizio Bracco che lancia un macigno potremmo dire nel dibattito di queste giornate. La cronaca, picchia la figlia adolescente perché non cucina, arrestato un 43enne di origine napoletane in manette per maltrattamenti nei confronti della sua famiglia. Anche il Corriere parla della sentenza omicidio Tiberi condannata a 5 anni, ma anche dal Trasimeno, l'impiede dei Netturbini sulle rive del lago. E poi un altro McDonald vicino all'ex LS a Perugia, protestano gli operatori sfrattati dal forboario di Terni e poi Quintana. Stasera è la sera del corteo storico, domani la disfida. Il dorso regionale della nazione apre con il volto delle tre viceministro e sottosegretario Umbre, donne di potere, Agea, Scani e Sereni, tre Umbre nel governo di Conte, come detto l'Ascani all'istruzione, la Sereni agli esteri, l'Agea agli affari europei. E poi pugno killer condannata a 5 anni l'apertura, Salvatori colpì l'amico per un gioco assurdo, finito. In tragedia si accascia durante una partita, ex calciatore muore in campo, aveva appena 51 anni, Battella aveva amministrato con Ternana Narnese e Orvietana. E poi agguato al pulmino dei fan nemici, denunciati sette tifosi del Gubbio. Il problema è che la partita in questione era Gubbio Fano e stasera si gioca proprio Gubbio Fano. Aliante acrobatico, il sindaco volante in gara Lucca a Foligno, mentre stagione venatoria, domani l'apertura dopo tante polemiche, più tecnologia, giovani leve e doppiette rosa, come cambia il pianeta? Il pianeta della caccia. La buona notizia del giorno è il benedetto panorama, un'occhiata vale più di cento parole e infatti come spiegare senza vederla di persona la grande bellezza del paesaggio, del nostro paesaggio. Ebbene, il Bosco di San Francesco ad Assisi, a un passo dalla Basilica, è stato scelto e inserito tra i sei beni del FAI che domani saranno protagonisti della sesta edizione della giornata del panorama. Giornata davvero da godersi. Apre con la cronaca il messaggero con una vicenda scabrosa, sesso in chat, ragazzine ricattate. La vicenda arriva da Perugia, la procura del Tribunale dei Minori al lavoro per contrastare il fenomeno dei ricatti con le immagini. Calano reati collegati al bullismo anche grazie a una campagna di prevenzione portata in tutte le scuole. A proposito di scuola, la sicurezza a scuola si aprono 12 cantieri, sappiamo come ci sia tanto da fare negli edifici della nostra regione e sempre dal mondo della scuola non denunciò la violenza. Preside a processo, la notizia arriva da Orvieto. Qui le tre donne, Umbre, che vanno al governo con ruolo di viceministro e sotto segretario Tris di Donne, titola il messaggero. E poi Poliziotto che rivela la droga a Terni è un fenomeno sottovalutato. Anche il messaggero ovviamente sulla sentenza per l'omicidio di Tiberi, condannato Cristian Salvatore a 5 anni, mentre da Perugia, Movida Selvaggia denunce per alcol e droghe. Da Marciano, caro sindaco, ora basta, con via Lenin, dicono dalle sponde ovviamente opposte a quelle di sinistra. Quintana, la sera del grande corteo storico in costume barocco, un grande spettacolo che si preannuncia anche stasera. E poi lo sport, Grifo oggi al Curi contro la Juve Stabia, con Falcinelli pronto al debutto, al ritorno in bianco-rosso. Mentre a Misano si scaldano i motori per la MotoGP di domani, atteso anche il Ternano Petrucci, incoraggiato da centinaia dei suoi tifosi per una grande impresa. Nel Gran Premio di San Marino della Riviera di Rimini. Queste le prime pagine dei nostri quotidiani, ma noi partiamo con la politica, tra poco avremo anche un servizio su questo, perché la notizia di ieri è il Tris di Umbre per il Conte Bis, Sereni, Ascani e Agea, le prime due del PD, la Agea 5 Stelle, dentro come viceministri all'istruzione e agli esteri e la sottosegretaria all'Unione Europea. Intanto Marina Sereni viene definita anche la madrina del civico fora, sembra esserci un po' la sua regia nella scelta di questa candidata. Dal senza di me a vice dite l'hashtag invece della Ascani, fuori dall'Europa torna agli affari europei, infatti l'Agea era stata parlamentare europea non riconfermata però dopo le ultime elezioni. Berlusconi, Vede Salvini sarà presto in Umbria, anche il Cavaliere, ma di politica ne parla ancora il Corriere con un'intervista che è destinata anche a fare un po' rumore di Bracco, che profila un passo indietro di fora, il PD si ponga il problema e dunque non lo esclude per Bracco senza l'unità di coalizione 5 Stelle, si perde, i demo Umbria hanno sbagliato a delegare il ruolo ai civici, l'ex segretario di S, membro dell'organismo voluto da Verini, chiede una svolta per ricompattare il centro-sinistra. Il Fatto Quotidiano aveva lanciato, non sappiamo se una butad o se davvero fosse concreta, la possibilità di una candidatura di Brunello Cucinelli, candidato con PD e 5 Stelle, lui però smentisce categoricamente, sono un imprenditore e voglio restare tale, questo per quanto riguarda il centro-sinistra, PD c'è però anche la carica degli uscenti nelle liste che bussano, nella Lega c'è uno scontro tra donne, in Casademma Perugia più conferme che novità, nel Carroccio spunta Spagnoli e c'è anche il terzo polo civico che si profila, in Pol c'è anche Luca Ferrucci che aveva iniziato la sua ipotetica corsa proprio al fianco di fora, ma poi le strade si sono separate, questo per quanto riguarda ancora il quadro elettorale, fateci fare una battuta, siamo già in parcondicio da giovedì, però non si sa ancora bene con chi debba essere applicata questa legge, visto che i tempi sono diversi, le liste si chiuderanno il 27 settembre, però siamo già in parcondicio, cioè siamo, come dire, obbligati a dare lo stesso tempo a tutti i contendenti, ma non sappiamo chi siano i contendenti, beh la bellezza di questa legge, veramente obsoleta Vendita LS, cambiamo pagina con il Corriere, c'è anche Ambrosi, progetto per un nuovo McDonald's qui siamo a Perugia, il colosso del fast food, vicino alla concessionaria, Bazzucchi conferma i rumors, e poi la cronaca picchia la figlia perché non cucina in manette un napoletano arrestato, 43 anni di origine napoletana, ma che vive a Perugia, mentre sempre da Perugia in 70 anni 10.000 perugini cresciuti col metodo Montessori, gli ex allievi celebrano la ricorrenza e il vice sindaco Tuteri fu un'intuizione geniale. Lasciamo il Corriere, andiamo alla Nazione e qui ripartiamo dalla politica, solo il Sì dei Cinque Stelle può rinsaldare il centro-sinistra, secondo il quotidiano fiorentino, la seconda gamba, prime frizioni e caccia al candidato, ma se arriva l'intesa a cui grillini si potrebbe fare a meno. Sei liste per il centro-destra, c'è anche Cambiamo, la lista ispirata dal governatore della Liguria Toti, Governo, Lumbria, Caleltris, chi sono le tre politiche di professione alla Corte di Giuseppe Conti. Chi è rimasto fuori ed era dato invece come papabile sottosegretario, viceministro all'editoria, Walter Verini, anche se la prende con sportività e fa gli auguri di buon lavoro alle sue colleghe. Questo per quanto riguarda la politica, ma proprio sulla politica e sulla presenza di Salvini già avvenuta in questi giorni tra Spello e Orvieto, ma riannunciata per i prossimi giorni, la prossima settimana tra Gubbio e Gualdo, abbiamo il servizio che ci porta appunto a toccare i temi di questa campagna elettorale. Matteo Salvini è pronto a far tappa nelle Gubbino Gualdese. L'oramai ex ministro dell'Interno ed ex vicepresidente del Consiglio, tornato ad occupare il ruolo di senatore e leader della Lega ad Interim dopo l'avvento del Contebis, ieri sera è stato l'ospite principale nel talk show di politica ed attualità in onde in prima serata su Rete4, dritto e rovescio, condotto dal giornalista e presentatore Paolo Del Debbio, e proprio nell'epilogo dell'intervista ha annunciato la sua presenza a Gubbio e Gualdo Tadino per parlare ai cittadini in vista delle elezioni regionali del 27 ottobre prossimo. Una data precisa del suo doppio ritorno in Umbria ad oggi non c'è, ma come confermato anche dalla coordinatrice Lega e Gubbino Gualdese Alessia Raponi, la prossima settimana Salvini è deciso a far tappa sia sotto i Cinque Colli che nella città della ceramica. Un annuncio fatto in modo ironico assieme al conduttore della trasmissione, dopo che lo stesso Salvini aveva sempre sarcasticamente parlato dei prodotti tipici acquistati nei giorni scorsi in Umbria. A te piacciono quei biscotti? Sì, io prima della serata me li mangio tutti. Settimana prossima! Le ne do un altro. No, che però mi metti nei problemi Paolo, perché se c'è anche una parte di vino rosso di Montefalco, poi quelli del PD mi danno dell'ubriacone, quindi devo mangiare solo biscotti integrali, non puoi darmi biscotti ubri. Il segretario del Carroccio, di fatti, ha visto annullare una serata evento a Foligno a Rione Lamora. Fu decisione straordinaria dello stesso Rione, per la volontà di non timbrare in qualche modo la giostra della Quintana di colori politici. Salvini è stato poi ospite della Festa della Cipolla di Cannara, su invito dello chef Umbro Vissani, una presenza che ha innescato diverse polemiche, con il presidente dell'ente Festa della Cipolla Damaschi, che ha chiarito come Salvini fosse in visita personale e non abbia in alcun modo effettuato comizi. Salvini è stato anche a Spello, a Sisi e nel Ternano, dopo l'ufficializzazione di Donatella Tesei come governatrice della Regione. Tra un mese e mezzo, di fatti, si vota e la Lega spera in un cambiamento storico per la Regione Verde d'Italia. In Umbria c'è Donatella Tesei, che ha fatto il sindaco per dieci anni, avvocato, e dopo cinquant'anni l'Umbria ha l'occasione storica di cambiare e ritrovarlo orgoglio. Restando nel quadro politico, sia nazionale che regionale, è notizia di oggi che Marina Sereni e Anna Scani del PD entrano nel nuovo governo con Tebis, ambedue nel ruolo di viceministro, mentre Laura Agea è stata scelta in quota Movimento 5 Stelle come sottosegretaria. La pentastellata, 41enne di Narni, è attualmente europarlamentare. A lei il ruolo di sottosegretario agli affari europei, con il ministro Vincenzo Amendola, Anna Scani, 31enne di Città di Castello, è invece viceministro all'istruzione con il ministro Lorenzo Fioramonti, mentre la 59enne folignate Marina Sereni è viceministro agli esteri assieme al ministro Luigi Di Maio. È sempre notizia delle ultime ore che il noto stilista ed imprenditore nativo di Castelrigone, Brunello Cucinelli, ha annunciato che non si candiderà alla presidenza della Regione. Vorrei sempre una politica geniale, coraggiosa, giusta, umanistica, però il mio mestiere è un altro. Queste le parole del re del Kashmir, che smentisce così tali incarico, dopo che i rumors lo davano come possibile punto di riferimento Umbrio dell'asse PD 5 Stelle. Lasciamo la politica dopo questa ampia pagina, siamo agli ultimi spunti dalla cronaca regionale da Perugia. Umbria Jets conquista l'arena, vertice comune fondazione verso l'intesa su pista, contributi e sede. Santa Giuliana Pagnotta lascia la riunione indispettito, ma non passa la linea Pastorelli. È sempre un po' un braccio di ferro, dobbiamo dire, tra la Kermes e l'amministrazione comunale. Caccia, c'è voglia di tecnologia, al via la stagione venatoria, Castellani spazio anche ai giovani. E c'è la testimonianza, io mamma col fucile, ma ci sono ancora troppi pregiudizi, perché la caccia è anche al femminile. Ospedale, servizio mensa in salute, parlano i pazienti bene, igiene e pulizia, però manca il personale. Poi Yes We Care per il sociale, parla Paola Fioroni dalla Croce Rossa all'idea di una nuova associazione, una lunga intervista con la dirigente da tre anni, consigliere nazionale della Croce Rossa. Infine tornano i bersaglieri, memoria per il futuro, al via oggi le celebrazioni a Perugia, a passo, verrebbe da dire, di carica. Lasciamo la nazione, la ritreveremo con i comprensori, chiudiamo la pagina perugina con il messaggero, scuola, sicurezza e antincendio, cantieri aperti in 12 superiori negli istituti cittadini gestiti dalla provincia, lavori per 25 milioni, tetti a nuovo per il Capitini, il dibetto e l'ipsia a Olmo Palestra con il super riscaldamento. E poi saranno 16 mesi di appuntamenti per celebrare i 70 anni del metodo Montessori a Perugia, mentre la cronaca ha sesso in chat, 100 vittime ogni anno, la procura del Tribunale dei minori al lavoro per contrastare il fenomeno dei ricatti con le immagini, calano i reati collegati al bullismo anche grazie alla campagna di prevenzione nelle scuole. Lasciamo i temi regionali, andiamo a vedere invece quello che ci raccontano i quotidiani di oggi per quanto riguarda la cronaca dei comprensori, iniziamo come di consueto dal Lago, iniziamo dal Corriere dell'Umbria, Olimpiadi dei Netturbini al Trasimeno, è una competizione decisamente singolare, il Presidente Nazionale di Miarini dice andiamo sempre in località di mare, ma il Lago stavolta è stata una piacevole scoperta, come si preannuncia, piacevole la passeggiata nella preistoria con il Riccio a Città della Pieve, si parte domani mattina alle 8, mentre c'è anche la possibilità di un appuntamento all'Isola Maggiore per riscoprire fiabe leggende, attesa anche l'arrivo a bordo del barchetto della Ninfa a Gilla, questo soprattutto per i più piccoli. Ad Assisi la cronaca commercialista infedele, spariti 500 mila euro, clienti costretti a pagare cartelle esorbitanti, mentre il Pincio riapre, ma solo per una sera, il parco è chiuso a seguito di un'ordinanza del Sindaco dello scorso dicembre. Altro parco a Todi, quello di Beverly Pepper, che diventa realtà oggi alle 16.30 l'inaugurazione del percorso con le sculture donate dall'artista americana. Le 20 opere inserite in uno scenario naturalistico e urbano, che collega la consolazione al centro. Siamo a Città di Castello, dove si scopre che il 76% dei tifernati usa la bicicletta, la fiera delle utopie concrete regala subito una perla, addirittura il 33% lo fa abitualmente, non è dunque un'utopia. La mobilità alternativa, almeno per i tifernati, sfruttando ovviamente anche il fatto che Città di Castello è pianeggianti, ma tante altre città pianeggianti, è ovvio, non hanno queste percentuali. Viadotto, Tevere IV, primo fine settimana di chiusura, lo stop sulle 45 programmato da Anas per le necessità del cantiere, niente traffico dalle 20 fino alle 8 di domattina, il che si aggiunge ai note e ormai datate problematiche del viadotto Puleto. Ma è anche il fine settimana della Tiferno Comics, che mette in vetrina 350 tavole dedicate a battaglia, mentre si tirano le somme a Umbertide con le fiere di settembre, ben 30.000 presenze, anche se c'è una coda polemica con una botta e risposta tra la vice sindaco Mierla e il PD. Denunciati, ultra del Gubbio, l'apertura del Corriere dell'Umbria dopo l'assalto all'autobus dei tifosi del Fano dell'agosto scorso, identificati alcuni responsabili segnalati per rapina, danneggiamento e violenza privata. E stasera c'è un nuovo match tra le due squadre, al momento nessun daspo è stato emesso. Diremmo comunque intempestivo il provvedimento, sia perché è passato molto tempo, ma perché proprio cade alla vigilia della partita. Verrebbe da dire, bastava aspettare almeno qualche giorno. Incidente ha scritto, ieri moto prende fuoco, intervenuti i vigili del fuoco, mentre Festival del Medioevo, edizione dedicata alle donne, Corriere ritorna sulla presentazione di Milano, avvenuta l'altro ieri, di cui ci siamo occupati ampiamente nel Tg di giovedì. Domani intanto a Gualdo si svela il palio dei giochi delle porte, si conoscerà l'opera che premierà il vincitore, mentre ieri mattina Nocera ha salutato il presidente dell'Ordine dei giornalisti nazionale Carlo Verna, premiato con la collega Paola Costantini per quanto riguarda il premio Angelo Marinangeli, il riconoscimento in memoria del noto giornalista. A Sigilla arriverà un nuovo sacerdote, Don Simone Petrosino, riceverà l'ordinazione dal vescovo Sorrentino. Siamo a Foligno, è la sera del grande corteo storico della Quintana, sfilata delle rappresentanze rionali al via dalle 21.45 della Piazza del Grano, in chiusura alla maestosa allegoria della Concordia. E poi esibizione speciale per il sindaco Zuccarini al campionato di acrobazia in aliante, in gara con altri 10 piloti, per questo sarà assente alla giostra. Conclusa intanto l'esercitazione dell'operazione Grifone, all'aviosuperficie i bambini delle scuole hanno potuto conoscere gli equipaggi e vedere da vicino gli elicotteri. E giovani imprenditori in visita allo stabilimento dell'azienda Omatonti, azienda leader proprio del settore aeronautico, delegazione di Confindustria guidata da Ilaria Caporali. Siamo a Spoleto con la cronaca, l'omicidio Tiberi, 5 anni e 4 mesi, la pena inflitta, il giovane che sferrò un pugno uccidendo il 32enne, sentenza che ovviamente non passa inosservata e che troviamo oggi su tutti i quotidiani. E poi ancora da Spoleto mancano i soldi, i lavori in tre stralci, servirebbero 160 mila euro per riqualificare la scuola materna Le Corone, al momento però sono disponibili solo i primi 70, siamo a Terni, Foroboari, operatori sfrattati, ultimatum del comune, grossisti ortofrutticoli che dovranno lasciare i capannoni dopo 54 anni, la pacchia è finita, ora devono andarsene da un'altra parte, le parole dell'assessore Melasecchia che ha incontrato i commercianti ha indicato soluzioni alternative, richiamando una frase ormai diventata famosa perché pronunciata da Salvini. Furto al ristorante, rubati vigne e tartufi, nuovo rai dalla vecchia stazione di Cesi, bottino che sfiora 500 euro. E poi vertice per evitare la manovra Bissi in comune a Palazzo Spada dopo gli incontri con Anci e Ministero, l'amministrazione si confronterà con l'organo straordinario di liquidazione sul buco di bilancio. Intanto c'è un bando da 20 mila euro per sostenere le idee proposte dai più giovani. E per combattere la sosta selvaggia in viale alle Ardi, parcheggio a pagamento e nuova segnaletica, comune e condomi trovano un accordo. Corsa della rivincita, siamo a Narni, più di mille volontari schierati dai terzieri, tutta la città è in festa fino al 22 settembre, tornano le osterie, oggi l'attore Edoardo Siravo per la degustazione dei vini in rima. Chiudiamo con Orvieto, dal Ministero dello Sviluppo Economico un aiuto al comune per le scuole e il teatro, via libera ai lavori per cambiare l'illuminazione interna e sostituire le caldaie. Mentre il vice sindaco Ranchino lancia una cabina di regia unica per promuovere lo sviluppo economico. Lasciamo il Corriere, andiamo alla Nazione, ripartiamo anche qui dal Trasimeno, dalle cronache del Lago con il quotidiano fiorentino che mette in evidenza da Passignano l'ex SAI, Prospettiva l'Orizzonte, nuovo progetto per ripensare l'area. Parla il sindaco, questo per quanto riguarda l'apertura scelta dalla Nazione. A Corciano una serata invece in nome di Paolo Borsellino, Agende Rosse, al teatro della Filarmonica. Sfilano le aziende del territorio ad Assisi, torna alla Moda degli Angeli per promuovere le attività locali. Mentre gestione dei rifiuti, fa il punto l'assessore comunale di Bastia Umbra, tema sempre spinoso in ogni comune. Arriva anche il programma del Palio di San Michele, sempre a Bastia, che giunge al suo clou. Anche la Nazione apre con l'aguato al bus, le sette denunce a Gubbia salirono i tifosi del Fano, cinque Gubbini finiscono nei guai. Mentre già al lavoro per l'albero di Natale da record, gli alberaioli da domattina ricominciano a pedalare, verrebbe da dire, sulle pendici del Montengino. Qui è il presidente del comitato alberaioli, Giacomo Fumanti. Il Marinangeli, Averna e Costantini, mentre anno c'era, mentre oggi e domani piano ma non troppo, eventi per escursionisti e motociclisti in quel di Gualdo Tadino. La Nazione ricorda anche la scomparsa di Fausto Allegrucci, prematuramente scomparso, grave lutto per l'ex vice sindaco e poi sindaco protempore Maria Cristina Ercoli, ovviamente anche da parte nostra le condoglianze per la grave perdita del marito. Siamo a Città di Castello, scuola bus Carat escluso dalla gara. Dopo 32 anni di gestione siamo stupiti di questo provvedimento. Lignani Marchessani dice che si aprono forti i problemi di natura economica e sociale per un servizio fondamentale. E poi fiere un'edizione da record, si tirano alle somme a Umberti di grande successo ma tengono banco le polemiche. Il PD chiede l'UMI sull'incarico di direttore a Michael Zurino, risponde, replica la vice sindaco Mierli. Le utopie concrete e la sostenibilità si discuterà di economia circolare a Città di Castello nell'ambito della manifestazione. Siamo a Foligno, Quintana, di scena stasera il corteo storico, salto indietro nell'era barocca con i figuranti dei dieci rioni. Ecco le vetrine più belle, altra premiazione legata al periodo Quintanaro. L'operazione Grifone è evidenziata anche dalla Nazione, mentre a Spoleto niente soldi per la scuola, Farabollini replica, botta e risposta tra sindaco e commissario al sisma. Si rinnova invece a Montefalco la festa della vendemmia, tradizione che continua domani alle 14.30 al parcheggio di Viale della Vittoria. Siamo a Terni, Viale Ardi, ecco i parcheggi a pagamento, accordo tra comune e residenti. Resta nel degrado invece il piazzale dell'ex officine Bosco. E a Narni, ambulatori solidali, trasporto gratuito per i pazienti fragili. Chiudiamo con Terni, Pepo muore in campo a 51 anni, grave lutto addio ad Alfredo Battella, giocò con Ternana Narnese Orvietana, stroncato da un malore durante un amichevole, il cordoglio anche della Lega. Questo per quanto riguarda la Nazione, noi chiudiamo la carrellata di comprensori con il messaggero che apre la pagina dell'Alta Umbria con la notizia da Gubbio, che abbiamo trovato anche sui altri quotidiani. Agguata lo stadio 7 denunce, Tafferugli dopo Gubbio Fano, la Digos di Perugia individua 5 tifosi rosso-blu, uno di Forlì e uno di Siena, che si trovavano evidentemente a condividere questa azione da stigmatizzare. Perquisizioni nelle case di indagati, il gruppo che ha saltato i marchigiani in tutto era di 15 persone. A Bastia il Paglio incontra le scuole, a Città di Castello edicole sportelli del comune, mentre a Marciano, caro sindaco, qui c'era il richiamo in prima pagina, basta con via Lenin, polemica che tocca due province ma di fatto riguarda quasi un'unica entità. In ballo ci sono i comuni di San Venanzo e di Marciano e la toponomastica che fa appunto discutere. Siamo a Foligno, i giovani imprenditori scoprono Grifone 2019 ad accompagnare il comandante delle operazioni coordinate in aeroporto, mentre fuga dalle casermette del campo di Colferito il punto, 76 anni dopo. C'è un'intera pagina dedicata alla Giosta della Quintana, corteo storico, notte di emozioni di attesa, in sfilata anche Aquila, Falco, Gufo e Alano, la Concordia è il simbolo della lunga notte. Intanto si guarda anche all'edizione straordinaria, da Norcia le dieci dame, si stringe il legame con la Valnerina per l'edizione di ottobre, fortemente voluta dal presidente Metelli. La cronaca in primo piano su Spoleto, con Salvatori condannata a cinque anni per il pugno mortale all'amico e poi specializzarsi in cinema. Torna il sogno, Spoleto che diventa centro di alta formazione per la produzione cinematografica. A Terni, eventi, degrado e mobilità, confcommercio all'attacco, l'associazione contro Palazzo Spada, non basta la notte bianca, dice, per ripartire. Intanto lega, lista chiusa, ora decide Salvini. Il commissario Salta Martini ha consegnato una rosa di nomi per rappresentare la provincia di Terni. L'ex investigatore che parla di droga, una guerra impari, Ruggero Isernia, dopo l'arresto di un pusher, dice, per anni a caccia dei pusher, ma quante delusioni, l'allarme per un fenomeno in espansione, dice, c'è stata una sottovalutazione del problema. E poi la fondazione Carit, sull'ex Banca d'Italia fa sul serio, il comitato di indirizzo ha dato il via libera all'offerta per ottenere il palazzo che si affaccia su Piazza Tacito. Il progetto è di trasformarlo in un contenitore culturale per la città con mostre d'arte internazionali, concerti e incontri. Via Leardi arrivano le strisce blu e poi permetteteci di ricordare anche noi Dante Ciliani, un amico prima di tutto, ma soprattutto un grande persona, grande giornalista e presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria. Quattro anni fa veniva prematuramente a mancare il 13 settembre. Straordinaria guida morale operativa. Vogliamo ricordarlo anche in questa circostanza all'interno di questo nostro contenitore informativo. Chiudiamo con un'occhiata alle pagine della cultura del fine settimana con i quotidiani e con gli appuntamenti dello weekend. Dal Corriere dell'Umbria alla rassegna di San Sisto, tanti menù in uno solo. Un settembre di cipolle, peperoncino, ranocchie, inguazzetto e fritte. A Montefalco e Neologica si propongono calici, degustazioni e piatti umberi. Insomma, un tour per i buon gustai. Per il Panopera Festival è in scena Livietta e Tracolo. Siamo a Panicale, oggi e domani l'opera da camera al Teatro Cesare Caporali. Mentre a Luci Cinema arriva il documentario su Diego Maradona, tre giorni di proiezioni a Perugia, per conoscere la vera storia di un mito del calcio, anche se dalla vita piuttosto movimentata. La Nazione, che dedica, come di consueto, due pagine alla cultura, l'arte e al tempo libero. Comic Overfest, fumetti, al Gerlinda, cosplay, youtuber, cartoon tribute band, giochi e artisti celebrano il disegno d'autore al centro di intrattenimento. A Torgiano invece stasera alle 21, Walter Attanasi dirige i Salento Sino, la chiesa di San Bartolomeo. E poi viaggio in Italia con la sagra musicale tra canti e videomapping. Stasera a Perugia, a questi e tanti altri appuntamenti che vengono segnalati nelle due pagine della Nazione. Noi invece chiudiamo con il messaggero, con Civitella Ranieri, rifugio dell'arte. Siamo nei pressi di Umberti, dei tanti eventi per i 25 anni dell'attività della Fondazione. E poi gli appassionati nostalgici di Beautiful non mancheranno di sicuro al concerto di Ron Moss, il Perugia del Gale DJ, tuffo negli anni 90 con la musica dell'inedita performance appunto Canora del Ridge di Beautiful. È tutto per questa prima parte della nostra rassegna ma ci aspetto un'ampia pagina di sport. A tra poco.